Buongiorno, buongiorno ciao e benvenuti in unicredit inserire la carta prego inserire la carta prego assicurarsi che la carta sia entrata oggi non chiedermi soldi mi ha mangiato la carta ritirare la carta e scegliere un'opzione scegliere un'opzione lei ha scelto di effettuare una ricarica di buon umore lei ha scelto di depositare un problema sono stanca sono stanchissima lei ha caldo vero lei ha fame ho fame si lei ha sicuramente bisogno d'affetto dici ma lo leggo nei suoi occhi bene se è armato depositi la pistola grazie ho detto che sono fatto tutto di ferro non scherzo mamma nemmeno io vada in spaccata signora vada in spaccata piano piano volevamo darvi un fratellino stefi il caffè è pronto attenzione non oltrepassare la linea gialla quale prego ritirare la ricevuta la vita è fatta di alti e bassi noi ci siamo in entrambi i casi sei molto gentile ciao piccola ciao ciao è tutto finto questo lei è un genio